L'ASL corre ripari sui tamponi a domicilio. È notizia di questa mattina che l'azienda sanitaria, dopo la denuncia del Tribunale per la Sanità e la notizia a battura da Onda DG, ha avviato le procedure per la somministrazione dei test ai pazienti Covid in isolamento domiciliare che hanno iniziato il percorso di guarigione e negativizzazione del virus. L'ASL ha quindi stilato un calendario e ha contattato personalmente una parte degli utenti per concordare data e orario della somministrazione del tampone. Procedono i medici dell'unità di continuità assistenziale dopo la formale autorizzazione. Ieri loro non lo potevano fare come pure il 118 si scontra con la carenza di personale. Lo sfogo dei pazienti, la denuncia dei volontari e l'intervento anche di qualche sindaco del comprensorio ha sortito l'effetto sperato. Questa mattina l'ASL si è attivata tempestivamente per la risoluzione del problema che era stato sollevato dal territorio diciamo da più livelli quindi non solo dai pazienti che erano in isolamento domiciliare ed erano in attesa appunto della verifica della negativizzazione del virus ma anche dagli addetti ai lavori come appunto i medici di base che sono i primi sul fronte a dover dare delle risposte e che in alcuni casi si trovano nell'impossibilità di comunicare. Qui è funzionata la rete, il Tribunale della Sanità diciamo unitamente alla medicina territoriale, unitamente alle istituzioni che si ringraziano chiaramente è riuscita appunto a mettere insieme la rete per la risoluzione di questo di questo problema per cui questa mattina l'ASL ha calendarizzato diciamo le visite e procederanno ad effettuare i tamponi come da noi richiesto le unità di continuità assistenziale. Sono 37 gli utenti pelini affetti da covid che si trovano in isolamento domiciliare in attesa dei tamponi di conferma per la completa negativizzazione. Si spera quindi che presto si chiuda anche questa delicata vicenda.